amici per la pelle sul teleschermo blu benvenuti nella nuova puntata del tg comics tornano in video nuovamente le classifiche dei fumetti più venduti al forbidden planet in questo caso le classifiche di settembre 2019 tornano in video perché perché per motivi di tempo le abbiamo postate esclusivamente sulla pagina del tg comics non in formato video ma semplice classifica da leggere e questa volta le posteremo entrambe sia in formato video qui su youtube che sulla pagina del tg comics con tutti quanti i link e i tag dovuti bene e cominciamo subito 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 a mazzarocca come mi piace dire a me dopo avervi ricordato ovviamente di sottoscrivervi al nostro canale mettere un bel mi piace attivare la campanella e aver salutato anche il buon tommaso in giappone che ogni tanto mi guardo i suoi video sempre con estremo estremo piacere allora cominciamo dalla decima posizione dei comics a questo giro cominciamo con i comics perché nelle prime 20 posizioni non abbiamo niente di extra quindi graphic novel la prima che risulta dovrebbe essere il buio colpisce ancora di ortolani ma siamo abbastanza in basso al decimo posto come dicevo abbiamo tor eccolo qua con il chiamiamolo tag con il claim della guerra dei regni che tuttora in corso qui in italia il numero 12 che corrisponde al numero 245 del numero della collana e che cosa vuol dire di thor di thor è uscita adesso la notiziola che a gennaio uscirà quello di donny cates e nick klein con un look che ha suscitato molte 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 come dire problematiche chiamiamole problematiche insomma ha fatto incavolare abbastanza abbastanza tutti i seguaci di thor no non tutti no però molti si sono straniti e a proposito voglio salutare il mio amico disegnatore marvel andrea di vito e anche lui non ha approvato molto la nuova versione nuovo look di thor posizione numero 9 per gli avengers anche loro coinvolti nella guerra dei regni numero 11 che corrisponde al numero 115 della collana e proseguiamo proseguiamo arriva la due queste sono ovviamente produzioni panini inutile che ve lo dico a fare mentre il primo titolo lion eccolo qui è lo spillato di lanterna verde il numero 5 posizione numero 8 che contiene all'interno anche la justice league odisey e hockman ovviamente inutile che vi dica che è il lanterna verde di grant morrison e tra gli artisti troviamo il grande liam sharp e bene 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 saliamo di un'altra posizione posizione numero 7 eccola qui già citata per i primi due titoli della panini la guerra dei regni questa è proprio diciamo chiamiamola la saga portante lo spillatino numero 2 settima posizione con jason aaron russell dauterman e matthew wilson un pochino dell'interno eccolo qua questa è la guerra dei regni posizione numero 7 alla posizione numero 6 giustamente il 66 di batman quindi di nuovo un prodotto lion rv lion che sarebbe il 178 no 179 della collana regolare all'interno c'è anche buggerl ecco qui e poi saliamo di un'altra posizione una una graphic novel ma è la prima parte di un prodotto della dc black label ancora lion quindi abbiamo batman l'ultimo cavaliere sulla terra che vede riformarsi la coppia snyder e capullo questa è la posizione numero 5 ottimo successo anche perché insomma non è un prezzo elevatissimo come quelli della che siamo abituati per i tp 8 e 95 cese la cava ancora saliamo quarta posizione arriva l'uomo ragno eccolo qui con il numero 31 e 21 scusatemi ovvero il 100 il 730 della vecchia numerazione e a proposito dell'uomo ragno a proposito dei segnatori se non vado errato ci dovrebbe essere l'addio di mark e si buonasera mark bugley di ryan hotley un lapisus un lapisus e arriviamo finalmente al podio in questa un'altra produzione panini a ritorniamo di nuovo alla rv lion e abbiamo al terzo posto il terzo numero di eroi in crisi sta ottenendo un grandissimo successo 4 euro 50 primi due numeri già belli che ristampati tom king clayman e mitch gerrads guardate che spettacolo bello devo dire non l'ho ancora letto molti mi dicono che non è male medaglia d'argento chiamiamola così per il primissimo numero della guerra dei regni eccolo qua inutile che ve lo dico a fa abbiamo già presentato il 2 e number one come spesso capita somente capita sempre più spesso capita il numero uno è il nostro pipistrellone più amato che abbiamo avuto anche proiettato almeno il suo simbolo alla stazione termini qua a roma eccolo qui per celebrare la sua festa il suo giorno che era il 21 settembre se non vado errato gli 80 anni di batman eccolo qua numero 65 di batman medaglia d'oro chiamiamola così svetta per il mese di settembre tra gli albi più venduti qui al forbidden planet roma e adesso schizziamo alla classifica dei manga più venduti cominciamo ma scegliamo al contrario è stato bravo bene numero 10 fire force numero 15 manga che gode anche di una bella serie animata produzione planet manga dallo stesso autore di soliter come tutti quanti voi saprete posizione numero 10 planet manga passiamo alla produzione numero 9 dove troviamo un prodotto j pop ed ecco qui anche esso manga con serie animata goblin slayer numero 6 eccolo qui e dalla j pop tre titoli tre case diverse eccola qua l'attesissima ristampona chiamiamola in perfect edition di lamu eccolo qua il primo di 17 se non sbaglio per l'opera della grandissima rumiko takashi fantastico all'interno trovate anche le tavole in bicromia eccolo qua tanto e poi posizione numero 7 un nuovo capitolo della saga di fairy tale una nuova storia la ten years quest eccolo qui una nuova e emozionante avventura sempre star come dicevo e ancora star adesso non ricordo se dragon ball era presente anche nella classifica di di agosto perché alcuni titoli dipende da quando escono se sono dei best seller magari le vendite si dimezzano tra più mesi comunque dragon ball compare nella classifica di settembre al sesto posto con il numero 8 dragon ball super eccolo qui saliamo alla quinta abbiamo un'altra ristampa un altro numero uno ed eccolo qua slam dunk number one per planet manga la creatura che ha reso famosissimo tachiko in ue in tutto il mondo è arrivato poi con vagabond real eccetera 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 bella edizione sovracoperta richiestissima assolutamente richiestissima ora devo fare una piccola specifica per quanto riguarda la posizione di slam dunk che è il numero 5 sicuramente il titolo è stato stra penalizzato dai problemi distributivi di panini pan distribuzione perché è finito coinvolto nel cambio di magazzini di panini quindi le novità sono arrivate tardi alcune si sono perse alcune in collaborazione col distributore nostro money comics al quale magari non è arrivato proprio il titolo ergo 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 e scusate mi arriva una telefonata ma ve la ve la zitto un attimo e sicuramente avrebbe venduto di più e sarebbe salito più in alto e quarta posizione ancora star comics o con seven deadly sins numero 31 anche questo vendutissimo e saliamo finalmente sul podio con one piece che se non ricordo male un altro di quei titoli che si smezza le copie in più mesi quindi medaglia di bronzo one piece 91 per la star troviamo di nuovo la j pop che balza direttamente al secondo posto con the promised neverland numero 11 serie televisiva anche per questo per questo manga complimenti alla j pop per la scelta e al numero uno chi troviamo tatatatan sicuramente il più venduto in assoluto è mairo accademia numero 21 ancora per star comics bene ragazzi questa era la classifica del mese di ottobre di settembre per quanto riguarda i titoli americani e giapponesi più venduti in assoluto io vi invito a vedere i prossimi video ma anche andare a recuperare qualcuno dei vecchi magari siete curiosi e volete vedere le classifiche del passato per il resto le battaglie sono tante vieni avanti classifico una gigante e che ci prima lo vedi sempre su di voi ciao